E' impossibile immaginare dove potrà arrivare l'uomo e la sua tecnologia. In ogni caso sarà sempre legato alla sua terra, alle sue origini. Siamo convinti che il futuro parta sempre dalle radici. Nella valle del Casentino, un luogo incontaminato nel cuore della Toscana, si è acceso il primo server di Aruba. In questo scrigno magico diviso dal fiume Arno, abbiamo deciso di restituire a questi luoghi l'amore che ci lega la nostra terra. Per questo nel 2016 abbiamo iniziato a coltivare piante di nocciole senza l'utilizzo di pesticidi o agenti chimici. Il nocciolo rappresenta una delle eccellenze dell'agricoltura italiana. Una tradizione che ha radici profonde e che oggi è in forte espansione. Grazie all'aumento dei consumi di nocciole in Italia e nel mondo. Siamo orgogliosi di contribuire alla filiera italiana, valorizzando le nostre terre e le nostre qualità. Oggi siamo lieti di poter condividere con te il frutto del nostro raccolto.